Presentato a Palazzo Lascaris e il programma del convegno La politica estera americana tra continuità e mutamento nell'ambito della rassegna Cesana Incontra che si svolgerà il 5 e 6 agosto a Cesana Torinese. Con la vicepresidente Daniela Ruffino, che ha sottolineato l'importanza dei rapporti che legano l'Italia agli Stati Uniti, sono intervenuti il sindaco di Cesana Lorenzo Colomb e il presidente del Club Atlantico del Piemonte Alberto Colomb, che ha evidenziato come i temi scelti per l'edizione del 2017, siano argomenti di grande attualità, utili soprattutto per un confronto diretto e proficuo con i cittadini. Abbiamo presentato al Consiglio regionale del Piemonte il convegno La politica estera americana tra continuità e mutamento. Noi abbiamo una serie di relatori davvero di eccezione, come ogni anno, siamo giunti alla quarta edizione e siamo davvero molto contenti perché si tratta di temi davvero interessanti. Vogliamo certamente approfondire con il pubblico che sarà presente il tema sulla politica estera americana, ma non solo, anche temi di attualità che riguardano certamente l'atteggiamento anche italiano nelle ultime crisi internazionali, una in particolare la crisi libica che ci riguarda davvero molto.